Nuovo appuntamento settimanale con la nutrizione ed il benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi parleremo delle more, un frutto estivo tipicamente anche cilentano, infatti lo troviamo spesso nelle località montane. Ma raccontiamo ai nostri telespettatori perché mangiare questo frutto e quali le proprietà? Le more o anche le temore di rovo, è un frutto estivo come dicevi tu ed è facile trovarlo facendo delle passeggiate lungo i sentieri di campagna. Sono il frutto di un arbusto selvatico e spinoso appartenente alla famiglia delle rosacee. Sono caratterizzate da questo colore a metà tra il rosso e il violaceo con un gusto decisamente dolce. Per 100 grammi apportano poche calorie, solamente 36. Sono ricche di sali minerali, soprattutto potassio ma anche calcio, fosforo, ferro e tra le vitamine la più abbondante è la vitamina C ma ritroviamo anche la vitamina A e le vitamine del gruppo B. Ciò che caratterizza questo frutto è la grande abbondanza di molecole ad azione antiossidante. Tra queste troviamo i tannini ma anche gli antociani che sono anche i responsabili della caratteristica colorazione delle more e anche i carotenoidi. Tutte queste molecole, oltre all'azione poi anche associata della vitamina C che è già di sua un'azione antiossidante, collaborano per ridurre i radicali liberi, quindi diminuire lo stress ossidativo e quindi aiutando a prevenire tutta una serie di patologie. Inoltre queste molecole, soprattutto gli antociani, sono anche studiate per dei possibili effetti antiinfiammatori ma anche di protezione dell'integrità dei vasi sanguigni. Abbiamo detto che contengono poche calorie quindi possono essere consumate anche da chi è a dieta ma sono ricchissime di fibre quindi regolarizzano il transito intestinale, danno un buon senso di sazietà e possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo LDL. Contengono potassio come abbiamo detto quindi ha una buona azione diuretica e contengono anche vitamina A quindi collabora alla salute della vista, sono un'ottima fonte di acido folico e vengono sfruttati anche in cosmetica perché contengono acido illagico. Un uso eccessivo può dare essenzialmente delle problematiche di tipo intestinale però tra le controindicazioni ricordiamo appunto chi soffre di colite ma anche di verticolite ma anche di calcoli renali. Un po' di attenzione la deve fare ovviamente chi soffre di diabete. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori, continuate a scriverci per richiedere i vostri alimenti preferiti e quindi discuterne con il nostro dottore Andrea Ricci. L'appuntamento con la nutrizione ed il benessere torna la prossima settimana.